Buonasera a tutti, seconda giudizione del gruppo Giorno della Latina, sulle note di esclavo del TPL, consideriamo la colonna che è il Saisal. Il gruppo può entrare, proviamo a comodarsi. Un applauso da altri che hanno fatto l'alleggiamento. Molto bene. Bene, siamo pronti. Quest'altro ho detto che è Salsa, Saggio, Bambini, Cammè di Uno, Giorno della Latina! Salsa, Bambini, Cammè di Uno, Giorno della Latina! Salsa, Bambini, Cammè di Uno. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.